Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Luca e Diego Questa è una piccola anticipazione di quello che faremo quando avremo la GoPro e la mia bici aggiustata Comunque adesso vi faremo vedere come facciamo i vlog e puoi partire C'ha un cellulare in mano per questo fa così E ora ci salutiamo perché andiamo in un'altra telecamera Ciao Bello a tutti ragazzi io sono Diego E niente vi faremo vedere un po' di che pasta sono fatti i nostri bei vlog Iniziamo dal dire che ora sto registrando col telefono se non si era capito Insomma inizieremo i video un po' con il telefono queste varie presentazioni Abbiamo già la nostra pagina Instagram Insomma tutte queste robe qua che penso di avervi già detto Molto presto ma non sappiamo ancora bene precisamente la data Ci prenderemo la GoPro Tutte e due Forse prima Luca che io ma Insomma è quello che ci interessa E Niente Vogliamo vedere un po' come veniva e farvi capire un po' come era Insomma Avremo il casco quindi la visuale sarà più alta più o meno così Comunque scusate se c'è molto vento ma Non è una delle migliori giornate Insomma Insomma E niente Ok Bici veramente sempre fluida Perfetta in ogni curva Forsella in carbonio assorbe sempre bene E niente E niente Non so se c'è vento In direzione piccola dai 23 dai Per ora sto andando anche abbastanza piano E niente Avete capito Ovviamente Non è stato molto ricco questo video Ed eccolo qua Ciao a tutti ragazzi E bentornati da Luca e Diego Questa qua è la presentazione Di cosa faremo nei vlog Ok Allora vai cominci te Ma nei vlog andremo un po' in giro per i paesini Appunto la nostra regione Saremo dai 5 fino ai 30 km Tutto in video Ovviamente nei viaggi più lunghi come nei Insomma da 25-30 km o anche 20 spezzetteremo Si taglieremo i video Ma si Ovviamente perché sennò Dura 40 minuti A parte la durata Di caldo i testicoli per terra Potremmo tagliarlo O addirittura fare parte 1, parte 2, parte 3 Poi avanti Sede molto lungo Poi dopo magari in certi punti In cui è tutto rettilineo Che è noioso Non sto neanche a farlo Ecco insomma Non ha senso Troppo noioso Poi magari quelle parti In cui ci sono i tornantini Le curve strette che si fanno a cannone Quelli lì magari da filmare Perché sono divertenti Si appunto Poi dopo noi Cosa faremo? Ma dopo questi giri qua Ci sarebbe qualche altra garetta Poi ovviamente enduro Tutto ciò che riguarda lo sterrato Fango Tutte quelle robe lì Sempre in bici E Poi faremo anche altra roba Nei vlog Si Poi dopo anche per esempio Non so Noi qua vicino Tipo 2-3 km Adesso non so 7-8 Ci abbiamo il Bennett E qualche volta ci possiamo andare E poi dopo facciamo il video anche dentro il Bennett Che facciamo delle battute Cioè insomma Insomma Facciamo un po' di tutto ecco Cerchiamo di arricchire i nostri Video il più possibile Si esatto Vabbè E vabbè Questa qua è la presentazione solo Ed esclusivamente Si perché ci stava come apertura del canale Insomma per far capire che contenuti portiamo Poi dopo ovviamente Che tanta roba Il video è stato fatto con un cellulare Quindi si muoveva di più lo schermo Perché lui lo teneva in mano mentre guidava Dopo Con la GoPro noi ce l'avremo in testa Quindi è ferma la testa Dopo la cosa sarà tutta ferma Quindi dritta Quindi noi quando faremo così La telecamera si gira con noi Non che facciamo una curva Lo schermo ancora resta verso di là O verso così Insomma vengono un po' più Meglio Insomma Un po' più meglio non si dice No no Vengono meglio E poi dopo Potremmo anche mettere la definizione in 4K Potrebbe venire Sì Nelle GoPro Poi magari Non subito Perché questa qua è ancora all'inizio dei vlog Quindi ancora un po' piano piano Ci sarà un po' più di Insomma Vabbè Comunque Abbiamo capito Lo faremo comunque Dopo potremo anche fare di più Insomma E niente Questa è una presentazione generale Di Cosa faremo Nei vlog Lasciate un commento qua sotto Iscrivetevi Attivate la campanellina Fateci crescere ovviamente Condividete il più possibile Lui ovviamente Lascerà qua sotto In descrizione Pagina Instagram Esatto E ci vediamo al prossimo video Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel mi piace E scrivete qua nei commenti Ciao Ciao